Ciao a tutti, benvenuti e bentornati, nuovo episodio. Oggi parliamo di una cosa che ho scoperto di recente, che riguarda tutti gli sport e anche la Formula 1 di recente, e sono le telecronache alternative. Praticamente cosa è successo? Durante il Gran Premio del Canada di tre settimane fa, ESPN in America ha trasmesso la gara normale su ABC, regolarmente con il commento di Sky Sport UK, credo che usino. E poi su ESPN2 ha fatto la telecronaca alternativa con Daniel Ricciardo, o Riccardo come lo chiamano loro, e Will Arnett, che è un attore che ha fatto Arrested Development di Rock, quindi un attore comico, che tra l'altro ho scoperto leggendo su di lui, che ha anche fatto un podcast con Mikakinen, quindi diciamo che non è nuovo alla Formula 1, però comunque come lui ha detto durante le interviste, sta iniziando a conoscere la Formula 1 e sta appassionandosi a questa. Se si riesce a appassionare alla Formula 1 di adesso, è veramente un fenomeno, perché non è nemmeno paragonabile a quella di un tempo, quindi vabbè. Ma a parte quello, cosa è successo? Praticamente loro hanno commentato, purtroppo non sono riuscito a recuperare da nessuna parte questa telecronaca, non c'è sulla Formula 1 TV, non c'è minimamente, non sono abbonato a ESPN Plus con l'americano, quindi non la posso recuperare neanche lì, e quindi non so come sia andata. Di sicuro, mettendo insieme Ricciardo e Arnett, che sono un attore comico, e poi Ricciardo, che è il personaggio più simpatico della Formula 1, quando non gli perdono le gomme ai box durante il Gran Premio di Monte Carlo, deve essere venuta fuori una roba bella. Poi, da qui a dire che è una cosa che ti piace, non lo so, bisognerebbe vederla. Allora, io stavo pensando a quali altre telecronache alternative, diciamo, ho assistito, ho seguito e di cui posso parlare. Beh, la più famosa in questo momento sicuramente è la Manningcast, cioè i fratelli Manning, Eli e Peyton, hanno deciso di commentare il Monday Night Football per ESPN sul secondo canale, anche loro, in alternativa alla telecronaca ufficiale che andava su ESPN normale. La primo anno fu l'ultimo anno prima di Joe Buck e Troy Aikman, e fece abbastanza scalpore, perché la telecronaca ufficiale faceva pena, cioè i telecronisti del Monday Night Football non erano minimamente all'altezza, non avevano il ritmo, cioè proprio non ce la potevano fare, quindi avere Peyton Manning e Eli Manning sull'altro canale aveva portato una ventata di freschezza, soprattutto perché c'erano Peyton e Eli Manning, non c'erano, non so, Felice, Centofanti e Bow e chi altro, e Paramatti a commentare la nazionale di calcio. No, c'erano due dei migliori quarterback degli ultimi anni, cioè gente che ha vinto il Super Bowl, gente che ha vinto l'MVP, insomma robe da chiodi. Ed era bello ascoltarla questa telecronaca perché quando loro due si mettevano a commentare le azioni, addirittura dicevano quello che avrebbero fatto loro in quel frangente, come hanno distrazione, come hanno letto la difesa e veramente sentire da loro è come quando senti Troy Aikman o Tony Romo fare le letture delle difese, sono ottime, però loro due insieme, con la libertà di essere a cazzeggio, proprio parlando sopra, senza dover avere un play by play da seguire, potevano commentare ed era bello. Poi questa cosa qui è cresciuta, hanno cominciato ad avere gli ospiti, a chiamare della gente, a non essere fisicamente nello stesso posto, che quello anche conta tantissimo quando fai queste cose, e comunque quando poi è cominciato ad arrivare gli ospiti, diciamo che la partita passava in secondo piano e quindi era più divertente ascoltare le loro interviste perché raccontavano degli aneddoti, tutte le cose che sono belle, però quando guardi lo sport in sé vuoi vedere lo sport, quella roba lì sarebbe stata bella se ci fosse stato delle interviste. Tra l'altro ho scoperto che Peyton Manning e la sua casa di produzione Omaha Productions, Omaha dalla chiamata degli Audible di Peyton stesso, cosa famosa perché si sentiva in tutti i microfoni quando urlava Omaha, Omaha, per cambiare gli schemi, e hanno fatto sì delle interviste in vari tipi di sport, mi sembra, nella UFC hanno preso Ronda Rousey, Vince Carter nel basket, Big Papi nel baseball, McEnroe nel tennis, e credo che fossero delle interviste queste, purtroppo anche quelle sono su SPM+, non si vedono da noi, quindi diventa difficile recuperare queste cose, ed è un peccato perché devono essere belle, quindi in quel modo lì l'intervista ci sta, è bella, ti racconta delle cose, durante una partita magari a chi vuole seguire la partita può dare un po' noia, quindi quella lì è stata, e tra l'altro questa cosa qui di SPM2, che si chiama Grandstand, la faranno per tre volte quest'anno, e in occasione del Gran Premio del Canada è stato il primo, come ho detto, poi ci sarà per il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin e per il Gran Premio a Las Vegas, logicamente lo fanno quando c'è dei Gran Premi loro, non lo vengono a fare per il Gran Premio dell'Ungheria, cioè non si svegliano nemmeno così presto, e quindi niente, sono curioso, però a questo caso mi ha fatto anche pensare a tutte queste telecoroniche alternative di quali ci sono, ne ho visto una, ad esempio l'altra sera, domenica notte, guardavo il Sunday Night Baseball su ESPN, e hanno fatto vedere che su ESPN2 avevano la telecoronica alternativa fatta con StatCast, non l'ho vista perché logicamente si vedeva solo quella normale, però ne ho viste altre con StatCast e sono di una mortale noiosità che nessuno c'è, non c'è verso, praticamente cosa succede? La partita è sempre la stessa, i commentatori non sono al top come il primo team di commento di ESPN, e poi parlano molto per statistica, e ragazzi quando parlano per statistica di baseball è veramente facile annoiare le persone, e quindi era, cioè dava qualcosa in più, ma era veramente difficile da seguire anche per gli appassionati, infatti la propongono ancora adesso, non ho idea di quanto abbia fatto, per farci capire di quanto faccia ancora l'alternativa del baseball, che si chiama StatCast infatti, dal servizio che dà le statistiche, e leggendo in giro ho letto anche che prima di questo c'era anche la Megacast, che era praticamente un servizio di ESPN che ricommentava, cioè offre una telecronica alternativa delle partite di college football, e con addirittura diverse due o tre di queste connessorate, che quelle con le connessioni, con le connessioni, con le telecroniche dei tifosi e cose del genere, fatte sui vari canali, e prima ancora una roba che si chiamava Full Circle, che praticamente faceva una telecronica alternativa del campionato di college, di basket, che però al tempo, si parla dell'inizio anni 2000, 2007 mi sembra, non ebbe tantissimo successo come adesso, vuoi perché magari a quel tempo non c'erano le tecnologie di adesso, e quindi diventava una cosa scomoda, ad esempio, quando Amazon prese i diritti di NFL per fare il Thursday Night Football, e lo trasmetteva, scusate, e lo trasmetteva in contemporanea con, prima era Fox, poi dopo CBS, e poi NFL Net, insomma un pochino di altri canali normali, per diversificarsi, aveva fatto un, aveva deciso di far commentare le partite, ad una coppia di commentatrici femminili, che erano anche molto simpatiche da ascoltare, qualche volta mi era capitato di seguire la partita in quella maniera, adesso non mi sovengono i nomi, però c'era quello, c'era le famose MBTV ad esempio, che ti consente di fare la telecronica alternativa mettendo la radio, invece dei telecronisti regionali, quindi la tecnologia di adesso ha aiutato molto a fare questo tipo di telecroniche, che stanno per sempre prendendo più piede, da noi qua in Italia, che io ricordi, le telecroniche alternative, a parte quando la Formula 1 andava sulla Rai e su Telemonte Carlo, e quindi c'erano due telecroniche diverse, ma non erano alternative, diciamo che erano due telecroniche in competizione, perché la Rai aveva i diritti per l'Italia, Telemonte Carlo aveva i diritti per il Principato di Monaco, ma poteva trasmettere la lingua italiana sul territorio italiano, quindi aveva diversi telecronisti, e non era solo la Formula 1, ma era anche lo sci, era anche il calcio, le nazionali, c'erano tante cose, cui Telemonte Carlo riusciva a fare una seconda telecronica, e la potevi vedere su TMC, purtroppo a quel tempo non era, non la guaccia, a parte che TMC o Telemonte Carlo si beccava male, perché almeno non nelle città più grandi, da me in campagna e montagna si beccava male, quindi non lo vedevi, ma soprattutto era piena di pubblicità, e quindi preferivi guardare la Rai, nonostante poltronieri, e tutto. Poi c'era lo sci, mi ricordo, con le telecroniche di Telemonte Carlo, e adesso molte cose, c'era la jalapas ad esempio, che faceva il mondiale alla radio, le partite, mi ricordo anche la Coppa UEFA, facevano radio milanese, che però da me non si sentiva, quindi c'erano quel tipo lì, c'era il commento dietro alla radio, poi la jalapas addirittura è andata avanti, perché si è anche creato, anche fatto delle cose in televisione, mi ricordo ad esempio, una collaborazione con Sky, dove su un canale dei 250, mi sembra su di là, commentava la partita, perché quando lo faceva la radio, per Radio 2, che si chiamava Radio Mondiali, Radio Europeo, una roba del genere, dovevi metterti lì, e dovevi guardare la partita, e sperare che la radio fosse in sincronia, con le immagini, quindi magari non era preciso, e quindi ti veniva un po' nervoso, cosa del genere, invece quella fatta, quando andarono su Sky, ebbero il loro canale diretto, quindi potevi guardarlo con loro, potevi cambiare il doppio audio, non mi ricordo bene, sinceramente, tanto tempo fa, però lo fecero anche con lui, e quello era divertente, quello era tranquillo, altre telecroniche doppie, cioè perché, le telecroniche alternative, diciamo che dovrebbero essere fatte, dalla stessa emittente, che trasmette, cioè ad esempio, non puoi dire che è una telecronica alternativa, la partita di serie A, che va sia su The Zone, che su Sky, sono in competizione, quelle due telecroniche, che anzi, cercano di fare, di fare meglio una dell'altra, per cercare di prendere, quei pochi indecisi, che hanno il doppio abbonamento, e che possono decidere, o devo guardarsi la partita, quindi altri, altri esempi, io sinceramente, me ne ricordo, veramente pochi in Italia, di proprio, a parte la Gialappa, che faceva quella cosa lì, su Sky, e poi ha fatto anche sulla Rai, mi sembra, però anche lì, la Rai era sulla radio sicura, ma non aveva un canale di per sé, o forse era su Rai Sport, ma non mi ricordo, ne hanno fatte così tante, praticamente europee e mondiali, ogni anno lo facevano, anzi, era anche divertente, cercare di capire, dove andavano, perché una volta lo facevano su DJ, una volta su RTL, una volta su Rai 2, Radio 2, e cose del genere, adesso c'è sicuramente, la telecronica alternativa, del Festival di Sanremo, che diciamo che è a Gialappa, c'è solo Marco Santin, poi che la fa, però per lo sport, sinceramente da noi, ah, Dazon, Dazon lo fa, quando fa quella di, quella dove mangiano la pizza, invitano, quella Coca Cola presenta, il Big Match del sabato pomeriggio, dove c'è su uno stream, c'è Pardo, che ci dà dentro, con le sue cose, e tutto, dall'altra parte, ci sono questi tre, che non so se sono, se sono famosi, non me ne intendo, che chiamano qualcuno, c'è, di solito c'è Parolo, io ho visto una volta Elio, ho visto Bobo Vieri, e altre cose del genere, e non mi ricordo tutti, perché non li ho guardati tutti, però, quella è proprio una telecronica alternativa, nel senso che te potevi decidere, se guardare la partita, in una maniera tradizionale, oppure in una maniera più alternativa, che è quello che fanno, a ESPN, e sono sorpreso, sinceramente, che lo abbiano fatto, anche con la Formula 1, perché non me l'aspettavo, sono molto curioso, anche per me, anche perché, come ho detto, nel video, super lungo, quello che ha ecceduto, i track limits, di YouTube, le telecroniche, sia quelle italiane, che quelle inglese, lasciano alquanto a desiderare, ora, quella italiana, sembra che sia la tele, già di per sé, siamo una telecronica alternativa, nel senso che non è, non è la telecronica vera, è una roba che, è una roba che ci tocca assorbire, per mancanza di alternativi, quella inglese, è un pochino più, è un pochino più, come dire, tecnica, come dire, però, come ho detto, quando manca Martin Brando, le mettono il chandoc a parlare come seconda voce, diventa inascoltabile anche quella, perché, perché veramente, è troppo, cioè, Martin Brando è un personaggio, Martin Brando ha vissuto, una vera Formula 1, sa, era compagno di squadra di Senna, cioè, ha veramente, e quindi, quando parla, sa di che cosa parla, quando invece, la mettono il chandoc, che in Formula 1, è andata a picchiare più guardrail, che giri fatti, vuol fare troppo il professorino, ed esce fuori con quelle frasi del cavolo, come l'altra volta, che non voglio neanche stare qui a ripetere, perché la qualità di queste persone, la vedi, io mi ricordo quando ero in Inghilterra, che seguivo le telecroniche su Sky, su, sulla BBC, c'era Eddie Jordan, Eddie Jordan, che riusciva, che aveva sempre la sua opinione, quindi era sempre interessante da ascoltare, perché ti diceva veramente quello che pensava senza filtro, io mi ricorderò sempre un'intervista, prima del Gran Premio di Gran Bretagna, del 2017 mi sembra, sì, 2017 dovrebbe essere, o 18, sembra 17 però, potrei sbagliarmi la memoria, dove praticamente chiedevano a tutti, chi avrebbe vinto, e Coulthard, quel mascellone del cavolo, la tizia, Susie, come si chiamava, e tutti quelli della BBC, erano lì che se la sparavano, che si facevano, vabbè, non si può dire, a vicenda, e tu ti dirai, ah è Hamilton di qua, è Hamilton di là, è Hamilton su, è Hamilton giù, e di Giordano è stato fuori, per me questa la vince Vettel, e la vinse veramente Vettel, con la gara lì, e questo dimostrava che Eddie Jordan, non era lì per dire le cose, che tutti volevano sentirsi dire, ma era lì perché, era uno che ne capiva di Formula 1, era uno che la Formula 1 l'ha vissuta, l'ha capita, e ci ha messo i soldi, quindi non è, è stato lì e ci ha guadagnato i soldi e basta, ci ha proprio messo i soldi suoi, e quindi, era interessata a far bene le cose, e si vedeva, quindi quando c'era lui a commentare, potevi stare certo, che diceva, ecco come quando c'era Villeneuve, Villeneuve a Sky, Villeneuve a Sky, era fenomenale, perché era lui, diceva le cose che pensava, riprendeva i suoi colleghi, se dicevano delle cazzate, e tutte quelle cose, la più clamorosa fu con la Masolini, c'era praticamente, ci fu quell'anno in cui Giovinazzi, esordì in Formula 1, sostituendo, mi sembra, Verlaine, alla Sauber, che si era fatto male, durante la Race of Champions, di quell'anno, e praticamente, la Masolini stava, tessendo le lodi di Giovinazzi, fasulle, perché era andata a picchiare la macchina, al terzo giro, mi sembra, una roba del genere, dicendo di qua e di là, di su e di giù, e a un certo punto, domandava, così, a Villeneuve, perché Giovinazzi, stesse correndo in Formula 1, no? E Villeneuve si diceva, ma non lo sai, non lo sai perché sostituisce Verlaine, cioè, proprio, a smerdata completa, perché Villeneuve, era uno che, le cose non le mandava a dire, diceva quello che pensava, questa gente qui, sta completamente, andando via, perché non hanno le palle, non hanno la classe, non hanno il carisma, per farlo, a quelle che ci sono in televisione, basta vedere Genè, Genè non è il personaggio, che vediamo in televisione, Genè è un signor pilota, è uno che ha colladato, una marea di macchine, è uno che ha corso, per i top team, e le ha guidate, le macchine di top team, quindi sa, sa quello che dice, e si sente anche, quando lo mandano, a bordo pista, durante le prove libere, addio la luce un'altra volta, porca lampada, George, Alexa, accendi George, e allora, quando, quando lo mandano, a bordo pista, si sente, che ti dice le cose, come le vede, e ti fa capire, dei particolari, che te non ti sogni nemmeno, perché quelle robe lì, non sa neanche che esistono, mentre invece, quando lo mettono, in cabina di commento, con quell'altro accanto, diventa, una marionetta, e deve dire, ma hai visto questo, per contratto, cioè, inutile, però comunque, per questo dico, ci vorrebbe una telecronica alternativa, alternativa sulla formula 1, perché la prima fa veramente pena, e sicuramente avrebbe fatto, perché, se ho capito bene, il gran premio di Canada, negli Stati Uniti, è stato visto da 1.8 milioni di persone, su ABC, e da 118 mila, su questa telecronica alternativa, che sembrano numeri bassi, ma sono numeri alti, se consideriamo che, le partite di stagione regolare, del baseball e del basket, adesso non c'è più il basket, logicamente, però, del baseball, perché l'unico che gioca, fanno anche meno, quindi, non sono numeri fenomenali, 1.8 milioni, ma non sono neanche numeri da buttare via, perché comunque, il mercato della tv è cambiato, la gente non segue più la tv normale, e quindi i numeri sono in calo, basta vedere il Super Bowl, che nessuno dice niente del Super Bowl, però i numeri sono in calo anche del Super Bowl, quindi 1.8 e 118 mila, in Italia, se facesse una roba del genere, farebbe 400 mila, la telecronica di Vanzini sul normale, e farebbe 5 milioni, la telecronica anche di Peppa Pig sull'altro canale, cioè, da Peppa Pig a Bruno Vespa, farebbero sicuramente meglio di Vanzini, però non lo fanno, ce lo teniamo così, una volta c'era, su quando c'era più Formula 1, ai tempi del primo digitale, proprio il satellite, quando veramente c'era in terra di potenza, e ti dava dei servizi alternativi, c'era la seconda regia, ma la seconda regia era diversa, nel senso che, non c'erano le stesse immagini, del canale principale, quindi, non era una telecronica alternativa, ma era appunto la seconda regia, nel senso che te vedevi, le cose che succedevano dietro le retrovie, quindi, nei sorpassi di in coda, perché una volta si sorpassava in testa, e in coda, adesso si sorpassa così poco, che basta una telecronica alla fine, sempre che il telecronica sia attento, e non si renda conto, che quello lì che sta per sorpassare la Ferrari, è Piastri, e non Norris, perché Norris sta battagliando con Hamilton, che c'è la macchina grigia, o nera, adesso quest'anno ce l'hanno nera, quindi, sconfonderlo con Piastri e con Norris, bisogna veramente non essere neanche lì con la testa, beh, comunque, dicevo di queste telecroniche alternative, che possono essere una fonte di interesse molto alto, perché è fatta da dei tre personaggi, e Will Arnett non lo so, perché come vedete è un attore, quindi non ho idea di quanto ne sappia di Formula 1, di cosa possa dire, però Ricciardo sicuramente riesce a dire le cose, ed è bravo, poi, essendo sotto contratto con Red Bull, molto probabilmente non si deve mordere la lingua tante volte, però non è di certo come Rosberg, che adesso che è libero di sparare su tutti, sembra che sia il migliorissimo amico di tutti, e il peggiorissimo amico di tutti ogni 30 secondi, perché dice, però anche lì si sente che è montato, non è vero come Villeneuve, però se avessero messo, non so, invece che metterci Ricciardo, che è stato contratto, avessero messo appunto uno come Rosberg, che magari non lo so, Johnny Herbert, o qualsiasi altra persona, che non è legata a nessuno, così, con la possibilità di poter parlare liberamente di quello che succede, senza dover essere, perché anche Genè è sotto contratto con la Ferrari, non ti può venirgli a dire che hanno fatto le cazzate, che hanno sbagliato questo e quest'altro, deve cercare di portare acqua al proprio mulino, cioè questo va in telecronica con la maglia della Ferrari, quindi vabbè, comunque è così, se avessero, secondo me, se avessero fatto invece che prendere un comico, perché logicamente lo scopo di quella telecronica alternativa era quella di non di dare qualcosa in più agli appassionati, ma di cercare di attirare dentro gente che non era avvezza alla Formula 1, per farla conoscere con un attore comico e un pilota simpatico, in modo da portare dentro più gente, che poi è esattamente la logica che usa Sky adesso, con degli incapaci a fare la telecronica, urlando e sbraitando, cercando di portare dentro tutta la gente che non capisce una sega di Formula 1, per aumentare i numeri, perché lo zoccolo duro è quello, e ESPN l'ha capito che ci vogliono due canali per questo, Sky ancora no, e quindi purtroppo ci sopportiamo la telecronica alternativa sul singolo canale di Formula 1 che abbiamo, e amen, basta, va bene. Grazie a tutti, ci tenevo a dire questa roba qui che ho visto da poco, e ci sentiamo presto, ciao!